This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. GMG and The Beta Project è una band di base a Venetia che ramifica la sua musica per raggiungere vari stili differenti, mantenendo un'identità sempre forte e riconoscibile. L'idea è semplice e quanto innovativa. È il genere che si deve piegare al messaggio, non viceversa. Per fare ciò, The Beta Project somma tutte le differenti ispirazioni dei suoi polistrumentisti, tanto strumentalmente chitarre, banjo, percussioni, latine, mandolino, quanto stilisticamente. Un reggae che sparerà in un funk tutto da ballare e rock che incontrerà il folk dei bassi fondi, un rap che si perderà nei meandri di melodie asiatiche. Aggiungete a questo una bella dose di spettacolo che i due frontman garantiscono e sarete al centro dell'atmosfera energica intensa di The Beta Project. Aggiungete a questo un appartamento Grazie a tutti 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 Grazie a tutti